Tu dove vai a Natale, anzi per Santo Stefano? Ecco a Natale non lo so, ma a Santo Stefano ho un appuntamento imperdibile. Il 26 dicembre 19.30 il tuo speciale da Cuba va in onda. Esatto, vado a Cuba, andiamo a Cuba tutti insieme con il telefonino e il camper. E vi racconterò la Cuba autentica, vera, quella che ho visto e documentato così all'impronta. Quindi siate con me il 26 dicembre alle 19.30, vi aspetto eh!